Abbiamo, su questa carta abbiamo un 1, un 4, un 3 e un 6 Due lati, 4 e 9 Ricordatevi bene, da una parte l'1, da una parte il 4, da una parte il 3 e da una parte il 6 Adesso voi domandete, ma c'è un trucco, io il trucco, voglio spiegarvelo Il trucco è questo qui, se la mano la metto da questa parte, sembra che ci sia un 6 Se la metto di qua, sembra che ci sia un 4 E' incredibile, lo stesso dietro, se la mano la metto qui, sembra che ci sia uno Ma se la mano mi appoggio qua, sembra che ci sia un 3 Quindi ricordate, dietro mettete la mano qui, sembra che ci sia un 6 Ma se levo entrambe le mani, se levo entrambe le mani, abbiamo veramente un 6 E lo stesso dietro, se levo entrambe le mani, effettivamente c'è proprio un 3 E poi basta dare una bella soccosta così alla carta e dietro ci sarà un 8